Buongiorno a tutti! Abbiamo lasciato già da un po' il santuario della Madonna di Stignano e ci stiamo arrampicando sui monti del Gargano in direzione San Marco Illamis, a tappe di 20 km. Lasciando il santuario comincia subito una salita e andrà così ancora per diversi chilometri. Fa caldo, tira un'arietta ancora leggera, il vento degli altri giorni ormai è acqua passata, però è un caldo ancora un po' sopportabile. Saliremo fino a quota 900 e di lì prenderemo direzione San Marco Illamis e poi il santuario francescano di San Matteo. E poi volevo spendere qualche parola per il santuario della Madonna di Stignano che ci ha gentilmente ospitato in questi giorni. Padre Claudio, che ne è il rettore, è stato con noi generosissimo e ospitale e abbiamo riso, scherzato, siamo stati molto bene. Ieri pomeriggio siamo arrivati e ci ha accolto e abbiamo seguito la messa con lui e poi abbiamo visitato e abbiamo alloggiato in uno dei più bei santuari in Puglia con un bellissimo chiostro affrescato, rinascimentale, una stanza comoda, pulita, in perfetto stile francescano. Con questo video vorrei ringraziare anche lui e la comunità francescana della Madonna di Stignano. Noi proseguiamo la salita che, come vedete, è ancora lunga e ci risentiamo più tardi. Un saluto dagli affaticati Onofrio e Sergio. Ciao a tutti!